Ciao a tutti pecore, oggi voglio raccontarvi la storia di un giocatore che è passato alla leggenda in questa impresa disperata, in questa impresa veramente impensabile. Poco tempo fa infatti giocavano due squadre, litorale Virtus.Mansue, nella quale Virtus.Mansue in grave difficoltà in campionato, tante partite perse consecutive, possibilità di rivinci di possibilità di risalire la vetta. Partita punto a punto, deve entrare un giocatore importante, entra lui, entra il nostro eroe, l'eroe di questa storia. In nove minuti di gioco, in nove minuti di gioco, riesci a mettere a riferto un plus minus di meno 20. Semplicemente incredibile. Ma hai visto una cosa del genere? Partita persa, tutti a casa. Però un record, è pur sempre un record.